La Saremese chiude il girone di andata con una vittoria che pesa ben più dei soli tre punti guadagnati sul campo dell'Igorna. La rete di Lauria all'inizio del secondo tempo regala ai matuziani il successo che vale anche il meno uno dalla vetta in classifica e il più tre sulla diretta inseguitrice. Grazie infatti al pareggio della capolista Ponsacco sul campo del Sestri Levante e alla sconfitta del Viareggio in casa contro la Lavagnese, i biancazzuri sono da soli al secondo posto in classifica, meno uno dalla vetta al giro di Boa del campionato. La prima occasione degna di nota arriva all'undicesimo minuto con un doppio tentativo di Lobosco che prima prova la conclusione dal limite e sulla palla ribattuta dalla difesa tenta nuovamente ma la sua conclusione finisce alta. Al tredicesimo occasione Ligorna con Cantatore che ci prova dall'interno dell'aria, Gavellotti respinge. Al diciassettesimo colpisce di testa onetto, Gavellotti devia. Al minuto trentasettesimo l'ultima occasione del primo tempo con Lobosco che tenta la conclusione dalla lunetta, palla fuori. La ripresa si apre con il tentativo di Lauria dal limite, conclusione parata a terra da Fenderico. Ma tre minuti più tardi ecco il vantaggio dei matuziani. Costantini la tocca per Lauria che dalla lunetta libera una conclusione mancina che si insacca. Vantaggio Sanremese. La ripresa scorre via senza particolari emozioni con la Saremese abile a difendere il vantaggio su un terreno non facile. Al quarantacinquesimo l'ultima occasione del match con la conclusione di Collantonio da 30 metri che sfiora il palo alla destra del portiere.